ciao amici di golf project paolo battistini alessandro pizzi benvenuti alla rubrica gioca sotto i 100 che è dedicata a voi amici sopra il 28 di handicap cosa avremo in questa rubrica avremo 8 speciali video per voi con drill esercizi e consigli che vi faranno migliorare vi faranno abbattere questa mariera dei 100 ma oltre questo cosa possiamo consigliare i nostri amici beh possiamo consigliare intanto quante volte praticare a settimana allora per chi vuole scendere sotto il 28 almeno una volta a settimana praticare una volta a settimana fatevi vedere dal vostro maestro fate una lezione e fare almeno un 9 buche a settimana perfetto quindi ragazzi sintonizzatevi il lunedì sarà il vostro giorno gioca sotto i 100 golf project perfetto